Ma tuo padre non ha cercato di ucciderti? Sì. Sì, lui... si l'ha fatto. Aveva le sue ragioni, ma... In ogni caso, sei un bravo ragazzo e io... voglio darti quello che vuoi. E co-c-cosa voglio? Più potere. Ok. Figo. Sul serio. Sì, Dioniso. Una promozione significa più potere e significa anche lealtà. E tu sei leale. Io lo vedo bene. Io... Ascolta, papà. Io dovrei... Devo dirti una cosa. Ah, sì? E che cosa devi dirmi? No. Puoi dirmi qualunque cosa, lo sai? No, solo che sono leale. Sì. Ah, sì. Allora... Beh, noi... costringeremo questi idioti a inginocchiarsi. Inizieremo con i disastri naturali. È diretto, è semplice. E poi passeremo a una cosa più interessante, un po' più elaborata, rococò, sofisticata, che procurerà ostilità. Odio. Da qui in poi, nota come fase due. No. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Grazie.